Inizio protocollo nuovo. Selezionare configurazione a trattata ferita. Adattamento autorizzato. Personalizzazione guerriera. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS. Ah, di QTSS! Ho sentito che puoi aiutarmi con il progetto di rigenerazione della flora. Ah, di QTSS. Oh, perdonami, lascia che ti spieghi. Sono Neocle, un botanico empirico qui ad Atlantide. Progetto un modo per aiutare la ricrescita della flora. Qui i fiori non crescono per conto loro. Oh, no! Non sarai anche tu un seguaccio di Minerva, vero? Rallenta. Perché non mi dici quello che ti serve e basta? Le mie scuse di QTSS. Non sei qui ad Atlantide da molto e sto correndo troppo. Lascia che ricominci. Praticamente le piante sono fondamentali per noi. Ma qualche ciclo fa gli umani ne hanno sradicate troppe e ora l'aria ne soffre. Vuoi farne crescere di più? In un certo senso, sì. Ho un'ipotesi. Secondo me, usando una fonte d'energia più potente del sole, potremmo avere una crescita sostenibile. E non ti seguo più. Esistono dispositivi in grado di proiettare raggi di luce nel giardino di Tretone. Orientarli usando le superfici riflettenti dovrebbe stimolare la ricrescita della flora. D'accordo. Vuoi che sposti le tue luci? Sì. Se tu, di Caste, ti prenderai cura delle nostre risorse naturali, darei l'esempio a tutta Atlantide. Un buon esempio, spero. Un buon esempio, spero. Credo che tutti i raggi di luce debbano colpire quella struttura centrale. Deve essere il dispositivo di cui parlava Neocle. Mi ricorda il modo in cui ho aperto la porta di Atlantide? Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Ha funzionato! Meno uno! Devo fare molta attenzione in quest'area. Meno uno! 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 Meno! Meno uno! Meno! Meno uno! 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 Meno uno!